Il suo messaggio elettorale legato alla sua candidatura solo per il territorio e non per noi stessi, cosa significa questo? Che noi ci impegneremo in maniera spasmodica e senza sosta per il territorio, cercando di promuoverlo a tutti i costi perché questo territorio ha bisogno di essere promosso, ha bisogno di essere servito e soprattutto ha bisogno che cresca necessariamente per dare l'opportunità ai tantissimi giovani che continuamente sono costretti a partire per poter rimanere in questa terra e poter estrinsecare attraverso le loro intelligenze, il loro impegno poter dare il massimo di se stessi per far crescere questo territorio. Si torna allo spirito di servizio? Necessariamente, è quello che ha attraversato tutta la mia vita e in maniera particolare la mia esperienza politica io l'ho sempre detto, la politica è lo strumento più alto per poter servire la propria comunità, la propria terra ed io in questo momento mi sono messo in discussione proprio perché voglio spendermi fino in mondo per la mia terra per la terra di tanti uomini e donne di buona volontà che hanno deciso di rimanere, di mettere le proprie radici in maniera profonda e nello stesso tempo di potersi realizzare. Quindi con questo lei sta dicendo che c'è la necessità di un cambio di passo nella nostra regione ma anche nel nostro territorio e per questo cambio di passo c'è bisogno di persone coraggiose? Necessariamente, la vita ci insegna, così come la storia, che anche ai grandi cambioni che hanno già dato il massimo si chiede sempre di più, quindi questa terra ci chiede ad ognuno di noi un impegno straordinario proprio perché dallo sforzo di tutti possa nascere quella Calabria che tutti noi ci auspichiamo. Lei ha scelto di scendere in campo anche in questa tornata proprio per questo desiderio ma quali sono le condizioni politiche della nostra regione e in particolar modo del suo partito? È una situazione molto difficile, però proprio per questo non si può abbandonare la nave solo perché non si riescono ad imbrigliare i venti. I grandi marinai si vedono nelle condizioni più difficili, c'è un mare molto agitato nel nostro partito ognuno di noi sta lavorando affinché si riesca a trovare quella dimensione giusta che possa portare la nostra nave a largo tranquillamente in acque più tranquille. Questo è l'obiettivo.